L'amministrazione comunale di Teramo ha lavorato allacremente per offrire servizi in più ai teramani che si regheranno al cimitero monumentale di Cartecchio in occasione delle prossime festività dei morti. Accessibilità interna migliorata per chi ha difficoltà di deambulazione, riqualificazione dei campi, abbellimento del verde, ma soprattutto l'avvio dei lavori di messa in sicurezza dei padiglioni inagibili dall'ultimo sisma. Quest'anno ogni cappella sarà visitabile senza prenotazione e grazie anche alla presenza della protezione civile. Finalmente, come promesso, la messa in sicurezza dei padiglioni che consentiranno con l'installazione del cantiere già la settimana prossima, da qui a breve, di poter accedere in tutti gli spazi cimiteriali. Intanto il 2 novembre sarà garantito, come negli scorsi anni, da quando mi sono insediato, ho voluto e ho preteso questo, che fossero accessibili attraverso ovviamente l'assistenza della protezione civile. Dobbiamo ricostruire questo rapporto di fiducia, dobbiamo farlo con un lavoro attento, costante, perché oggi Team torna ad essere la società della città, la società della comunità terramana, che deve avere anche le gambe per potersi presentare al di fuori dei confini terramani, come una società a servizio dell'intera provincia. Il cimitero cartecchio di Teramo è dunque pronto a ricevere chiunque vorrà visitare i propri cari defunti. La nuova Team, totalmente pubblica, che ha in gestione le aree cimiteriali e comunali, intende recuperare la fiducia dei terramani attraverso efficienza e progettualità. Il comune di Teramo entra di diritto nella gestione societaria, per cui ciò che prima poteva essere demandato, oggi invece deve essere riscontrato, approvato e soprattutto effettuato. Quindi la presenza oggi di tutto l'apparato politico non è solo una presenza di facciata, ma una presenza dell'imprenditore che riscontra sul campo il proprio lavoro. Il forno della cremazione sarà costruito? Il forno della cremazione è uno dei progetti che porteremo avanti, non è il solo, non è l'unico, perché le problematiche sono tantissime, come avete già evidenziato, parliamo dei cimiteri frazionali. Il forno di cremazione ci permetterà anche di assolvere alcuni oneri, che oggi per noi sono pesanti. Naturalmente lo specifico entreremo quando avremo un progetto cantierabile, stiamo lavorando a questo. Piccole e grandi novità al cimitero cartecchio di Teramo, un giardino zen, la riqualificazione del campo degli angeli. Sì, questa credo che sia la novità più importante in assoluto. Non me ne vogliano tutti gli altri, che soltanto il campo degli angeli, secondo me è il cuore del cimitero, perché purtroppo lì sono sepolti i bambini, sono sepolti dei bambini. In questi anni tantissime sono state le richieste da parte delle mamme, dei papà che mi hanno sollecitato un tappetino, che sembra una banalità, però se noi riflettiamo durante i periodi invernali, durante il mese di novembre, dicembre, quando piove, quando nevica, quel campo diventava in realtà tutto infangato, e quindi i genitori non riuscivano neanche a portare un fiore, stare cinque minuti, un po' di tempo con i loro bambini. Grazie a tutti.